Stiamo lavorando e nelle prossime settimane arriveremo al dunque. Lo sblocca cantieri è quasi arrivato, l'IVA non aumenta, non ci sono tasse sulla casa, tasse sui risparmi, dalla crescita, perché noi siamo convinti che l'Italia sia uno dei paesi migliori al mondo, con gli imprenditori migliori al mondo e con gli operai migliori al mondo. Però anche voi mettete lo 0,2, avete arrivato. Perché siamo prudenti, siamo prudenti, meglio correre dopo, essere prudenti prima.